buonasera a tutti benvenuti su tutore bentornati sulla nostra piattaforma io sono giuseppe e mi occupo di webinar e oggi non sono solo come al solito anche perché fortunatamente qui su tutore non sono mai solo sono sempre in compagnia di speaker professionisti benvenuta serena sensini ciao grazie ciao buonasera buonasera a tutti benvenuto su tutored per portare una novità una rivoluzione una come dire un nuovo contenuto ovvero una live coding qualcosa di realtà non molto diverso da quello che facciamo quotidianamente ma in realtà lato come dire più di contenuto si tratta ovviamente di qualcosa di diverso perché perché ci siamo resi conto che come dire il codice i linguaggi di programmazione sono super super richiesti poi tanti utenti della vostra community ci dicevano facciamo una live coding parliamo di codice parliamo di programmazione e allora abbiamo chiamato un'esperta come serena che tra pochissimo vi racconterà un po il suo percorso ma poi andrà dritta al dunque per provare a creare alzino provare provare per voi perché serena lo sa fare benissimo quindi creare una web app con full stack con angular e no djs correggimi se ho sbagliato la pronuncia serena no no allora guarda ti rubo giusto un minuto per presentare tutore da chi è nuovo su questa piattaforma noi siamo un po il punto di incontro digitale tra studenti giovani laureati e aziende e abbiamo un obiettivo quindi quello di avvicinare questi due mondi come lo facciamo con opportunità di carriera che trovate sul nostro sito e la particolarità è che le trovate declinate per percorso di studio quindi se siete iscritti a ingegneria informatica troverete soltanto quegli annunci che possono essere in linea con quello che avete studiato state studiando all'università e poi trovate un sacco di contenuti come webinar formativi come la live coding di oggi ma un sacco di master class contenuti come articoli che possono darvi una mano a come dire trovare qualcosa di molto vicino a quello che desiderate per il vostro futuro lavorativo e poi trovate anche tutte le aziende con cui tutored collabora e che poi non sono altro che come dire quelle realtà che producono contenuto sul nostro sito tutto quello che vi ho raccontato lo trovate anche nella nostra app che serena ha già scaricato se non l'ha fatto lo farà al termine della di resta e poi vi invito a seguirci su instagram per trovare tutti gli aggiornamenti tutte le novità post storie insomma sapete meglio di me che cosa offre questa piattaforma alcuni dei prossimi appuntamenti sul tutto red ultima slide ci sono due esperienze con due aziende diverse satis pay e bloccion finance il 10 febbraio il 15 febbraio ovviamente sempre qui su tutore ok allora io ho concluso il mio brevissimo discorso di intro altri 30 secondi per dirvi che questa piattaforma è super intuitiva e serena può testimoniarlo io vi invito a smanettare un po nella sezione conversations che trovate sulla barra di sinistra è di fatto la chat dell'incontro per scrivere commenti pensieri per salutare serena e invece c'è una sezione poi dedicata alle domande question and answers la trovate immediatamente in basso c'è un punto interrogativo inserite lì le vostre domande le vostre curiosità perché poi tanto abbiamo dieci minuti finali in cui la nostra speaker proverà a rispondere insomma a sciogliere i vostri dubbi a rispondere le vostre domande ultimissimo in basso sulla destra c'è un simboletto bianco con uno sfondo nero e se ci cliccate vedrete che potrete decidere come disporre il vostro schermo in modo del tutto autonomo ok ho parlato già troppo serena assolutamente no ti lascio il parco il palco virtuale ti lascio la parola grazie mille per essere qui grazie a te grazie per l'introduzione allora apro le slide eccole qui perfetto benissimo e vediamo ok grazie mille allora cominciamo con diciamo la sessione di oggi che appunto ci aiuterà a vedere come si crea una web app da zero utilizzando alcune tecnologie basate su type script e javascript più diciamo invoca del momento che sono angular node js in particolare in particolar modo utilizzeremo express js utilizzeremo come data base mongodb quindi utilizzeremo diciamo uno stack abbastanza completo perché questa decisione perché in realtà nell'ultimo periodo diciamo negli ultimi anni tutte quelle applicazioni che fanno uso del cosiddetto pattern single page è diciamo esploso molte delle tecnologie che vediamo adesso in giro molti dei framework che normalmente le aziende usano che possono essere view react next js ce ne sono tantissimi sono tutte tecnologie che si stanno facendo tantissimo largo nel nel mondo del lavoro in questo senso infatti è nato anche quest'acronimo no l'acronimo min che sta proprio per l'utilizzo di una serie tecnologie come quelle che ho citato prima quindi mongodb express angular e node per costruire un'applicazione da zero che sia completa quindi sia un'applicazione consistente e proprio in questa sessione questa in questo training andremo a vedere come partire da zero quindi utilizzare un file json semplicissimo per poi arrivare a visualizzarlo nel nostro browser prima di cominciare vi racconto brevemente chi sono attualmente lavoro come enterprise architect presso un'azienda che si chiama data luce spa è un'azienda molto molto grande che si occupa di diciamo software nell'ambito della sanità informatica privata e pubblica e diciamo è un'azienda cui non ci si annoia praticamente mai anche il lavoro stesso che faccio io la professione enterprise architect è una professione molto versatile quindi ogni giorno c'è un problema nuovo da snocciolare e per me è fondamentale perché è proprio quello che io cerco anche in un lavoro qualcosa che mi incuriosisca un qualcosa che mi diverta è una cosa che ho sempre fatto nel link che abbiamo messo in questa slide le slide saranno ovviamente accessibili e fruibili per tutti vi ho riportato il link al blog che sto curando ultimamente se riesco non riesco a copiarlo da qua però ve lo faccio vedere esatto se vuoi serena puoi anche copiarlo in chat così poi esatto grazie mille faccio così lo scrivo direttamente lo scrivo qui in chat perfetto io da circa un anno ho aperto questo blog che tratta di tecnologia quindi troverete un sacco di contenuti anche inerenti a quello che vediamo oggi nel blog eccolo qua e tratta tecnologie di tutti i tipi quindi si vanno allo sviluppo al design architetture varie tecnologie come docker si parla anche di intelligenza artificiale spazio tantissimo perché le tematiche nel settore informativo mi interessano sono tante e quindi cerco di raccontarlo attraverso una serie di guide propongo anche delle recensioni di libri tecnici anche manuali che leggo con il tempo e ho anche riportato i manuali che ho scritto io per apogeo e per per epli nel corso degli anni torniamo subito alla carica con il webinar di oggi vediamo un attimo come è strutturato quindi quali sono i contenuti che andremo a vedere nella prima parte vi racconterò molto brevemente quali sono le tecnologie che andremo a utilizzare giusto per avere un'idea di quali sono gli attori partiremo sviluppando la web app come vi ho raccontato prima molto brevemente da un semplicissimo file json quindi andremo a costruire un file json con qualche proprietà che ci permetta di poi partire con la nostra web app la vedremo quindi la testeremo live e alla fine abbiamo detto ci concederemo diciamo 10 minuti un quarto d'ora per vedere se ci sono dubbi se ci sono problematiche quindi prima parte quali sono le tecnologie che oggi andremo a utilizzare vi ho già raccontato che lo stack è un stack di tipo min ce ne sono tantissime varianti e che utilizzano anche magari dei framework diversi piuttosto che dei database diversi questo diciamo è quello che dal mio punto di vista si sposa meglio insieme angular sicuramente una di quelle componenti che è più intercambiabili con altre tecnologie che possono essere react view next js via dicendo l'altra parte diciamo dello stack è quella un po più fissa mongo db è un database non segue questo vuol dire che lavora con dei dati che non sono basati su una struttura di tipo entità relazione quindi sono dei dati fondamentalmente molto somiglianti a dei json ok si lavora su una base di dati che lavora per documenti quindi questi diciamo simil file json sono dei documenti che sono all'interno di una collezione ok questo lo vedremo a brevissimo perché vi farò vedere anche come controllare insomma se i dati nel vostro database sono presenti express js è un framework che viene utilizzato per creare delle applicazioni web sia con diciamo quella che si chiama la view lato browser quindi la possibilità effettivamente di avere una un app che vediamo tramite browser ma soprattutto si utilizza per creare delle cosiddette piai quindi dei servizi che vengono interrogati da un un altro componente che vengono consultati all'occorrenza e la metteremo in contatto con mongo db quindi faremo in modo che express js possa comunicare con il database recuperare i dati scrivere dati e via dicendo angular sarà diciamo la nostra il nostro cuore per andare a creare quella che è l'interfaccia grafica è un framework che si occupa principalmente di front end quindi tutta la parte di attività proprio di visibilità all'utente tramite browser di quello che noi andiamo a fare mentre express js normalmente si usa per la parte di back end anche se non è assolutamente detto a motore di tutte queste tecnologie c'è node js infatti node ci servirà come ambiente server per far partire express js e per rendere le nostre api disponibili aggiungo a quello che ha detto giuseppe prima se ci fosse qualche termine che non vi è chiaro che sto utilizzando che dopo è scontato sentitevi liberi di scrivere nella chat perché non è un problema cerco di sviscerarlo e di approfondirlo un pochino di più questa è un po la scaletta di quello che andremo a vedere oggi partiremo come vi ho detto definendo un json e andremo a costruire il back end passo dopo passo quindi vedremo come si costruisce un'app in express fatto questo testeremo che tutto vada bene dopodiché passeremo alla parte di front end scusatemi per la dicitura docker file dovete assolutamente ignorare questa cosa perché oggi non la vedremo e passati al front end creeremo un'app in angular in particolare utilizzeremo un diciamo un componente di design che si chiama material che ci permetterà di rendere la nostra app carina con veramente poco sforzo anche se questo soprattutto per chi fa UX e UI design è una semplificazione un po eccessiva però per chi magari si approccia per la prima volta a queste materie diciamo può essere anche complicato avere un quadro chiaro di come utilizzare tutti i componenti e nulla fatto questo diciamo avremo la nostra app pronta in questo caso io utilizzo quello che si chiama approccio bottom up parto praticamente da quello che è il dato ok che nel nostro caso è il json per andare a costruire tutta la soluzione a monte del dato ci sono ovviamente diversi approcci che possono essere utilizzati in fase di sviluppo quindi si può anche partire da quella che è la progettazione della parte di front end fino a scendere normalmente questo è l'approccio che preferisco perché secondo me costruire una web app a misura di dato quindi una sorta di vestito cucito addosso ai dati mi permette di adattare tutto il resto ma non c'è una soluzione giusta o sbagliata diciamo ognuno trova il suo il suo metodo di lavoro la nostra cartella di lavoro sarà strutturata in questo modo avremo una cartella che è dedicata al back end all'interno della quale andremo a mettere tutto il codice node.js ed express avremo una cartella dedicata per la parte di front end quindi ci metteremo tutto il codice angular e dopodiché avremo separatamente il database mongo che deve essere installato e disponibile e soprattutto attivo all'interno del nostro computer lo schema generale sarà questo praticamente la parte di back end farà da ponte tra queste due componenti quindi sarà quello in grado di leggere e prendere dati dal database processarli e passarli alla parte di front end allo stesso modo la parte di front end andrà a interrogare il back end per poter recuperare o scrivere dati all'interno del database ho anche riassunto un pochino quello che è lo schema delle porte perché tante volte c'è un po' di confusione su quelle che possono essere le varie porte da utilizzare normalmente angular comunica su una porta 4200 4200 come preferite ognuno ha il suo modo di raccontarla il back end lo faremo comunicare sulla porta 8081 e mongoDB invece comunica sempre su questa porta l'ho fatto perché siccome vedremo delle stringhe di connessione tra i vari attori che ci sono in gioco potrebbe essere complicato stare appresso a tutto quindi anche avere uno schema diciamo molto veloce delle porte può essere sicuramente utile dopodiché vediamo anche qui uno schema del file system per la parte di back end in questo caso vedremo che avremo a disposizione all'interno del progetto express un file index.js che sarà il file principale che ci lancerà l'app il file che si occuperà di gestire tutte quelle che sono le rotte quindi ogni volta che noi andremo a chiamare una serie di servizi sulle nostre API faremo riferimento a questo file ci sarà un file che descriverà il modello del nostro dato quindi come è costruito il nostro oggetto lo descriveremo qui dentro e ci sarà anche un file relativo al controller quindi quello che si occuperà materialmente di andare a fare la comunicazione tra il database e la request che ci arriva in ingresso dall'utente la parte di front end ha diciamo uno schema abbastanza similare nel senso che all'interno dell'applicazione angular avremo un file che si occupa della parte di routing quindi tutte quelle richieste che arrivano in ingresso come le gestisco a chi mando la richiesta lo specifichiamo qui dentro avremo la parte relativa all'app component ts che praticamente è il componente principale della nostra app angular è quello che include e ingloba tutta la nostra applicazione avremo una cartella che gestisce tutti i servizi che sono presenti all'interno della nostra app avremo una cartella che gestisce tutti quelli che sono i componenti man mano vi racconterò anche che cosa sono tutti questi pezzetti e poi avremo una serie di file che sono quelli che ci aiutano a costruire i nostri componenti il file html per la parte di vista css per la parte di stile e la parte di logica applicativa sarà invece il ts scusate solo un secondo ma mi sono raffreddata ieri e quindi devo un attimo soffiarmi in atto e allora ti sei raffreddata guarda veramente era l'unica cosa che non speravo che succedesse ma ovviamente e vabbè dai è il periodo sì il periodo insomma può far paura la cosa però no no è solo raffreddone ok quindi detto questo questi sono gli schemi delle nostre due cartelline fondamentalmente come funzionerà la logica dietro la nostra applicazione allora immaginiamo di avere quindi la parte di front end attiva il nostro database attivo e la parte di back end attiva quindi come se avessimo fatto tutto funzionerà in questo modo io navigando la mia applicazione in Angular tramite il browser per esempio andrò su questo path qui quindi andrò a richiamare una pagina che si chiama users questa pagina qua che cosa farà? dovrà andare a recuperare per esempio tutti gli utenti che sono presenti in un database lo farà chiamando un servizio disponibile in Express.js il quale si occuperà di comunicare direttamente con il database e andare a recuperare tutte quelle che sono le informazioni relative agli utenti quindi questo è un po' uno schema di quello che succede quando dobbiamo fare una richiesta di questo tipo ora perfetto partiamo da un oggetto del mondo reale quindi in questo momento io vi condivido lo schermo ok allora condividi schermo eccolo qua perfetto giustamente vedrete la schermata di Dudo Red ok che adesso mi sposterò in quest'altro schermo così io continuo a vedervi e intanto mi apro il mio ambiente di sviluppo in questo caso io utilizzerò un ambiente di sviluppo che deriva dalla suite di JetBrains questo componente in particolare si chiama WebStorm è un ambiente che ci permette di lavorare su applicazioni web delle tecnologie più disparate in maniera molto molto semplice io mi trovo molto bene a lavorare con tutti quelli che sono i prodotti di questa suite hanno anche diversi prodotti che sono diciamo in versione community che funzionano veramente molto bene quindi mi sento di consigliarvelo poi ognuno ovviamente utilizza lo strumento che preferisce anche perché mi rendo conto che un po' come una scrittrice ha bisogno della sua penna anche lo sviluppatore o la sviluppatrice ha bisogno del suo ambiente con cui si sente più a suo agio cosa facciamo? partiamo da quello che è un'applicazione express quindi WebStorm ci permette di definire quella che è la nostra base di partenza per esempio decidiamo di creare il nostro backend quindi facciamo min backend ok gli diciamo che in questo caso non ci sarà nessuna vista quindi non abbiamo bisogno di utilizzare Express per far sì che la nostra applicazione web sia visibile dal browser ma ci dovrà fare praticamente solo da motore ok? facciamo create ok me l'ha aperto ovviamente nell'altro schermo perfetto aspettiamo un secondo che lui mi vada a creare tutti i file perfetto all'interno di questa cartella per come sono abituata a lavorare io cerco sempre di separare quelle che sono le varie componenti è un modo diciamo più ordinato di riuscire a gestire quelle che sono le responsabilità dei singoli attori quindi normalmente quando si crea un'applicazione in Express lui crea di default quella che è la cartella root che gestisce la parte relativa a proprio alle rotte quindi a come le richieste verranno gestite una volta che arrivano in ingresso dopo di che c'è la cartella node modules che si occupa invece di gestire tutte quelle che sono le dipendenze delle librerie che utilizza Express la cartella BIN che descrive quelli che sono gli attributi macroscopici dell'esecuzione del motore dietro Express faccio un esempio dov'è che vado a descrivere la porta su cui la mia applicazione deve essere esposta lo descrivo nel file www che protocollo deve utilizzare? HTTP, HTTPS lo vado a descrivere qui dentro ok, quindi questo file noi non lo toccheremo però sappiate che in fase di configurazione è molto importante nella parte public diciamo normalmente vengono messi quelli che si chiamano assets quindi se noi abbiamo bisogno per esempio di sporre delle immagini del codice JavaScript particolare del codice CSS lo vado a includere qui dentro nel nostro caso non ci interessa quindi diciamo questa cartella la ignoriamo anche se potremmo proprio cancellarlo il file app è il file principale che invece andremo a utilizzare per far partire la nostra applicazione vi faccio anche vedere che l'esempio che lui fornisce di base quindi io non ho toccato assolutamente nulla è un esempio che già include una serie di file ma siccome noi ce lo vogliamo personalizzare un po' e vogliamo capire come funziona partiamo dalla base ci creiamo una cartellina che chiamiamo data ok? qui all'interno andiamo a creare un file che chiamiamo sample JSON giusto per andare a descrivere quello che è un semplice file JSON che andremo a modellare secondo quelli che sono diciamo le caratteristiche che abbiamo in mente io per esempio voglio partire dal creare un database che gestisca degli utenti per farlo vado a definire quello che potrebbe essere un semplice modello di utente ok? per esempio lo chiamo name John oppure lo posso chiamare non lo so John Do ok? description mettiamo il classico lorem ipsum che non fa mai male questo è il modello di utente che io voglio rappresentare considerate che diciamo questa informazione può essere messa in qualunque modo in qualunque modo noi vogliamo perché poi lo andremo diciamo a rappresentare tramite i vari step che abbiamo visto prima questa è solo la base ma chiaramente così come funziona con questi due attributi anche se ne metteste 20 il funzionamento di tutto quello che vediamo oggi sarebbe perfettamente identico quindi fatto questo andiamo a creare un'altra cartella qui all'interno che chiamiamo model all'interno della quale andremo a definire proprio quello che è il modello ok il modello della nostra applicazione modello che cosa vuol dire? noi praticamente andremo a utilizzare una libreria che si chiama Mongoose che ci permetterà di metterci comunicazione con database Mongo per farlo cosa facciamo? creiamo una prima variabile che chiamiamo Mongoose all'interno della quale scusate andiamo a specificare ingrandisco un po' perché non so quanto si veda effettivamente grande andiamo a specificare qual è l'albreria da utilizzare in questo caso specifichiamo Mongoose lui me la sottolinea perché giustamente non è installata e gli dico di installarla questo vuol dire che nel momento in cui lui avrà finito la sua installazione come vedete da qui sotto l'avrà aggiunta alla cartella note modules ok? tutto quanto in Mongoose inizia con uno schema che cosa vuol dire? uno schema serve a mappare una collezione MongoDB quindi un qualcosa che rappresenta un insieme di documenti con una struttura analoga o con diciamo un filologico analogo e serve quindi a definire la forma dei documenti che andremo a inserire nel nostro database questo pezzo di codici che adesso andremo a scrivere ci permetterà di andare a definire uno schema molto semplice lo schema rappresenta in pratica quello che abbiamo detto prima all'interno del JSON quindi immaginiamo di voler definire quello che è lo schema di un utente noi utilizziamo Mongoose per definire uno schema come vedete mi dà anche il suggerimento definiamo l'utente abbiamo detto che il nostro utente ha un nome e una descrizione quindi in questo caso diciamo che l'attributo name sì l'attributo name ogni tanto mi vengono i dubbi è un attributo di tipo stringa ok ed è obbligatorio per esempio scegliamo che l'utente non può essere aggiunto se non ha un nome questa cosa effettivamente ha senso perché aggiungere un utente che non ha un nome sarebbe inutile la descrizione al contrario per esempio è un attributo che non è obbligatorio però ne definiamo comunque la tipologia quindi mettiamo che la tipologia è sempre una stringa ok punto e virgola e andiamo avanti una volta che noi abbiamo definito quello che è il nostro schema abbiamo bisogno di compilarlo in qualche modo e renderlo un modello in modo che Mongoose nel momento in cui arriva una richiesta dall'esterno sia in grado di fare il match tra quello che è lo schema che abbiamo definito e quello che è presente effettivamente nel database per fare di questo andiamo a definire una variabile user che tramite module export quindi qualcosa che ci permette di esportare quello che noi adesso stiamo effettivamente lavorando va a definire quello che è un modello quindi definiremo una collezione che si chiama users e non vi preoccupate se non l'avete definita all'interno del database perché la andrà a creare lui nel momento in cui la collezione viene popolata viene anche creata questo è uno dei grandi diciamo dei grandi vantaggi di MongoDB all'interno della collezione users andremo quindi a imparare tutti i documenti che hanno l'aspetto di questo schema qui quindi degli utenti che hanno un nome e una descrizione fatto questo l'ultimo step per concludere il modello è quello di creare quindi l'export che ci permetta di andare a utilizzare questo modello all'interno degli altri oggetti per farlo facciamo di questo quindi module .export get function adesso ve lo scrivo un secondo limit e poi ve lo spiego user.find limit perfetto allora in questo caso che cosa sto facendo siccome noi possiamo creare degli schemi dei modelli usando tutte le strutture che vogliamo quello che abbiamo definito qua è una definizione che abbiamo fatto adesso sul momento ma possiamo cambiarla così come vogliamo senza problemi al contrario diciamo dei database SQL Mongo permette di avere anche dei documenti non strutturati che sono diversi tra loro non è un problema quello che comunque ci viene consigliato è che nel momento in cui abbiamo definito uno schema definiamo anche un export che ci permetta di una volta che chiamiamo diciamo un servizio principale ci permette anche di andare a recuperare tutti quelli che sono gli utenti che sono già presenti quindi tutti i documenti che sono presenti nella nostra collezione questo è quello che fa effettivamente questo module dice una volta che io ho esportato questa funzione che mi definisce quello che è il modello lui sull'oggetto user che è proprio l'oggetto che mi descrive la collezione di utenti mi va a fare una find quindi un'operazione che mi recupera tutti gli utenti che sono presenti all'interno della base per un limite definito qui dentro quindi diciamo che teoricamente imposta un limite di documenti che si va a recuperare la realtà è che nel nostro caso non andremo mai a fissare questo limite mi ne faccio li recupera tutti scusate di nuovo mi li ho filmato allora io nel frattempo dieci secondi vi chiedo se avete dei dubbi delle richieste particolari insomma se avete bisogno che Serena torni indietro su qualche punto ma immagino immagino di no perché sennò ci avreste già scritto però in ogni caso non fa mai male ricordarlo a te Serena grazie mi dispiace queste piccole interruzioni ma veramente se non respiro poi è anche difficile parlare ok allora questa è la prima parte diciamo del nostro codice quindi abbiamo definito quello che è il modello passiamo alla parte di controller abbiamo detto che seguiamo questo schema no quindi partiamo dal file json definiamo il modello passiamo adesso al controller che è quel componente che si occuperà di far comunicare effettivamente il database con l'esterno utilizzando il modello che abbiamo definito al solito definiamo una cartellina controller all'interno della quale andiamo a definire il file che ci interessa in questo caso user.controller ok stiamo facendo tutto questo giro perché immaginando che nella nostra applicazione un giorno non siano solo gli utenti a voler essere gestiti ma siano anche molte altre entità può essere utile avere già uno schema di dove andare a mettere i vari pezzi ok in questo caso allora fino adesso abbiamo definito quello che è il modello da utilizzare chiaramente il controller per poter parlare diciamo con la nostra applicazione web in angular per poter parlare con il database avrà bisogno di questo dato di questo schema comune che definisca un po' quello che è il linguaggio di scambio tra i due quindi il modello che abbiamo creato prima lo andiamo a recuperare lo andiamo a recuperare in questo modo andiamo ok andiamo a importarcelo tramite la funzione require all'interno di user ok perché lato backend ha utilizzato experts.js e non un linguaggio come java mi chiedono in chat perché in realtà diciamo quando diciamo lavoro ma non è assolutamente un dogma sono abituata a utilizzare tecnologie che appartengono alla stessa famiglia quindi se devo creare un'applicazione preferisco a meno che non ci sia un'imposizione utilizzare diciamo la stessa batteria di tecnologie in questo caso appartengono tutta la famiglia di typescript barra javascript quindi sono linguaggi molto simili anche se mi è capitato spessissimo di fare magari un backend in java il frontend in angular piuttosto che il backend in python e il frontend in view sono tutti miscugli che sono possibili diciamo questo è uno di quegli stack che secondo me si adatta bene e soprattutto per chi magari conosce un linguaggio riesce a fare uno sviluppo che è veramente completo frontend e backend compreso senza dover cambiare linguaggio che spesso invece è complicato per chi magari non ha conoscenze di più linguaggi di programmazione quindi questa è è stata un po' la scelta architetturale spero di aver risposto nel caso mi potete riscrivere in chat allora dicevo a questo punto definito il controller importando quello che è il modello dell'utente qual è l'altro passo l'altro passo è quello di definire una serie di moduli che posso esportare utilizzare nel router successivamente dove per router intendo i file che sono all'interno di root per comprare una serie di operazioni quindi recuperare gli utenti aggiungerne uno modificarne uno che è già presente eccetera eccetera per ognuno di essi uso una funzione apposita che prende in ingresso la mia request che mi arriverà dall'applicazione in Angular mi predispone la response e attraverso il model che ho definito in precedenza quindi questo model che abbiamo appena importato vado ad utilizzare le funzioni che sono messe a disposizione da Mongoose come faccio? in pratica il funzionamento di base è questo la funzione per esempio index è quella che io andrò a chiamare di default quando mi arriva una chiamata alla mia API qual è la chiamata di default che posso volere? quella di recuperare tutti gli utenti quella è la chiamata che io mi aspetto di fare più spesso quindi vado a definire una funzione che prende in input la request e la response e che cosa fa? utilizzando il modello che abbiamo creato vado a richiamare la funzione get che abbiamo già visto in precedenza la funzione get ci permette anche di definire una serie di parametri che sono sicuramente l'errore quindi nel caso in cui la connessione database andasse male perché magari il database ha avuto dei problemi nel frattempo posso andare a posso andare a vedere qual è l'errore e magari stampare un messaggio opportuno al contrario se invece la nostra chiamata al database ha successo vado a salvare quelle che sono le informazioni all'interno di quest'altro parametro che ho chiamato users ma potete chiamarlo come volevate che è quello che io andrò a restituire mi vado anche a fare un piccolo controllo anche se sicuramente diciamo su questo avrebbero fatte le modifiche magari utilizzando anche delle eccezioni o degli errori che lo gestiscono opportunamente se riscontro un errore voglio restituire nella mia response un messaggio che permetta di far capire alla mia applicazione web che c'è stato un problema per esempio restituisco un JSON dove restituisco uno status KO e come messaggio ci vado a mettere l'errore qui potevo mettere veramente di tutto potevo mettere anche un codice di errore potevo mettere un messaggio più parlante potete decidere come gestirlo io ovviamente la faccio abbastanza semplice nel caso in cui invece vada tutto bene io vado a restituire un JSON di questo tipo faccio proprio ancora così mi risparmio un attimo di scrittura in questo caso metto come messaggio ok metto un messaggio in cui dico users have been received successfully ok e poi ovviamente glieli vado a passare quindi un'altra proprietà che chiamo per esempio data ci vado a passare users questo è un po' il funzionamento tipo di una funzione index quindi in questo caso quando la mia API andrà a chiamare per esempio il path users mi andrà a recuperare tutti gli utenti ora immaginiamo che voleva fare la stessa cosa per poter aggiungere un utente quindi qua vado a sostituire con new e fin qua dovrebbe essere molto molto semplice la nostra funzione in questo caso è una funzione asincrona perché nel momento in cui vado a creare un utente non è detto che il tutto avvenga allo stesso tempo in cui la richiesta viene fatta quindi ci metto la parola asinc davanti ok e poi qui vado a fare una serie di modifiche la prima modifica che ho fatto è questa intanto mi vado a predisporre una request che mi prende un nuovo oggetto utente così come lo schema che ho definito in modo che mi possa andare a mappare i parametri che ho in ingresso quindi immaginate che in questo caso la mia applicazione mi va a passare una serie di informazioni il nome e la descrizione di un utente io prima me li devo andare a recuperare li devo assegnare al mio utente una volta fatto questo posso andarlo ad inserire per esempio l'attributo name come lo vado a popolare allora immaginando che la mia request nel body abbia un parametro name glielo vado ad assegnare però siccome non sono sicura perché magari è stato qualche problema vado a fare una verifica di questo tipo name in questo caso cosa sto dicendo all'oggetto user ok attribuisci l'attributo name quindi l'attributo name sarà uguale a body.name quindi la proprietà name all'interno del body della request verrà attribuita qui dentro altrimenti sarà uguale al niente ok possiamo fare anche così volendo questo però che cosa comporta essendo un attributo obbligatorio dovremmo fare attenzione che nel momento in cui non ci viene passato il nome dovremmo impedire proprio l'inserimento in questo caso non andiamo a fare questo controllo per non renderlo complicato ma questa sicuramente è una di quelle cose da fixare quindi mettiamo un bel fix me qui adesso facciamo per la descrizione quindi la descrizione sarà popolata a partire da quello che è il parametro passato nella request altrimenti sarà vuota in questo caso ci sta anche bene perché abbiamo detto non è un attributo obbligatorio quindi tutto sommato non è un problema mi risoffio il naso scusate allora visto che mi hanno sempre insegnato a riempire i buchi di audio io ti dico Serena che ho una domanda per te ma te la farò alla fine e quindi adesso ci concentriamo sul codice poi io ho una domanda che ecco non riguarda proprio il linguaggio di programmazione ma qualche competenza ti spoilerò soltanto questo va bene basta che la competenza non sia come non prendersi il raffreddore da tua nipote di un anno perché maledizione ok ci risono ci saranno un po' di queste interruzioni veramente mi dispiace tantissimo ma non ho potuto evitarlo ok allora fatto questo noi abbiamo definito quelli che sono i parametri a questo punto dobbiamo andare a salvare il nostro oggetto quindi al contrario di quello che abbiamo fatto prima cosa facciamo facciamo users.save ok save che cosa fa va effettivamente ad inserire il nostro utente all'interno del database quindi se prima abbiamo utilizzato get stavolta utilizziamo save sull'utente che abbiamo appena creato vi faccio notare è proprio di tipo user ok anche in questo caso diciamo l'impostazione ci sta anche bene togliamo users perché effettivamente non ci deve restituire un elenco di utenti quindi non ci non ci torna utile il controllo sull'errore lo facciamo lo stesso cambiamo il nostro messaggio perché se l'utente viene aggiunto correttamente ci mettiamo per esempio new user been created successfully ok e dopo di che qui dentro ci restituiamo l'utente stesso ok andiamo anche a creare per esempio il metodo per cancellare un utente ok e poi ci fermiamo allora in questo caso stesso discorso per quanto riguarda la cancellazione si possiamo lasciarla ugualmente asinforo quello che facciamo è questo quando andiamo a richiedere la cancellazione di un utente siccome ci aspettiamo che magari ci siano utenti con username completamente diversi però non ci possiamo affidare tanto su questa informazione ma è più utile diciamo affidarsi a un'informazione che sappiamo per certo che sarà univoca utilizziamo quello che è l'id del documento quindi l'id dell'utente per farlo facciamo di questo allora questa parte qui non ci è utile quindi facciamo così allora immaginando che l'unico parametro che avremo in ingresso nella nostra request sarà proprio l'id dell'utente questo ce lo lasciamo facciamo così user quindi lo chiamiamo sulla classe user utilizziamo il metodo remove neanche a dirlo è abbastanza semplice nel metodo remove noi andiamo a passare un oggetto un oggetto di tipo json quindi gli andiamo a dire in pratica fai un filtro su tutti quelli che sono gli oggetti che hanno l'id aspettate che vado a capo così si vede anche un po' meglio id rick params per esempio io avevo user id e ci mettiamo una virgola ok allora che cosa stiamo facendo in pratica gli stiamo dicendo rimuovi tutti gli utenti il cui filtro viene rispettato in questo caso il filtro qual è l'id e questo è il modo in cui Mongo assegna un id a tutti i documenti che sono presenti all'interno del database deve essere uguale a quello che viene passato all'interno della request all'interno dei parametri della request quindi vedremo a breve come passare l'utente id e lo chiameremo user id quindi questo sarà il modo in cui lui si andrà a recuperare questa informazione questo è il codice per quanto riguarda quello che succede una volta che lui ha effettivamente rimosso l'utente lo possiamo lasciare abbastanza uguale perché l'errore ci sta bene lo gestiamo in questo modo nel caso in cui l'operazione sia andata bene diciamo user has been deleted successfully ok e non restituiamo nient'altro perché in questo caso non c'è nessuna informazione da restituire ok questa è la parte di controller dovrebbe essere abbastanza chiara a questo punto passiamo nella parte relativa alle route e ci andiamo a vedere quello che lui ha fatto così vediamo se lo possiamo adattare allora lui ha prima creato un file che è index.js dove ci va a creare un router quindi l'entità che effettivamente fa da vigile urbano tra tutte le request che arrivano in ingresso per la parte di index come vedete qua nel commento lui dice che nel momento in cui viene chiamato get viene fatta una request di tipo get su queste API che stiamo costruendo quello che andrà a fare è andrà a restituire un home page infatti fa una render quindi effettivamente mostra una pagina su una view che si chiama index ok il cui titolo è express se lo andiamo a provare ci troveremo in pratica il messaggio express la stessa cosa fa per users users in questo caso ci va a restituire sul path principale quindi una get che viene fatta su users ci va a restituire un body di tipo semplice quindi una sorta di testo e basta nel nostro caso questo non va bene perché vogliamo delle risposte in modo che il nostro router le sappia gestire opportunamente quindi andiamo a lavorare su questo file qui dove express ci torna utile perché è proprio il componente che ci darà il router che andremo a utilizzare il resto lo andiamo a modificare per esempio qui la risposta che noi vogliamo ottenere nel caso di una get sul path principale ok non è ovviamente un testo semplice ma per esempio e qui ci apriamo postman di utilizzo di diciamo per comodità postman è un client un software che può essere utilizzato per andare a testare delle API ce ne sono tantissime ma in realtà questo è uno dei più utili ci aspettiamo nel momento in cui andiamo a fare una chiamata di questo tipo quindi sulla nostra API chiamando users e lui restituisca per esempio come si dice l'elenco degli utenti che abbiamo definito prima ok quindi in questo caso trasformiamo la nostra response intanto in un json dopodiché ci andiamo a mettere per esempio status users users API is working ok quindi questo intanto è un primo messaggio che ci vuol tornare utile per far capire che la nostra applicazione sta lavorando correttamente dopodiché a noi non basta quello che abbiamo fatto fino adesso ma andiamo a utilizzare il controller che abbiamo definito per far sì che il nostro router possa andare a gestire opportunamente le request che gli arrivano quindi prima cosa ci andiamo a importare il controller e lo facciamo in questo modo allora dovrebbe stare controller infatti user controller controller ok punto e virgola dopodiché cosa facciamo router.root questo ci permette di dire ok a seconda di dove ti arriva la richiesta mandalo a un path piuttosto che un altro per esempio mettiamo tra virgolette se ti arriva una richiesta sul path users quindi quello che abbiamo visto prima in postman vi faccio vedere se ti arriva un path di questo tipo andiamo a decidere qual è il percorso da percorrere a seconda del tipo di metodo che viene utilizzato per esempio se utilizza una get noi vogliamo che la nostra request abbia una response con tutto l'elenco degli utenti quindi in questo caso diciamo usa all'interno del controller il metodo index ok altro metodo se per esempio utilizziamo una post quindi una chiamata http che di solito è utilizzata per aggiungere un utente lo mandiamo su new ok quindi questi sono i metodi che abbiamo utilizzato prima l'altro metodo che andiamo a utilizzare è questo users per esempio se gli passiamo uno user id in questo caso mettiamo i due punti per specificare che questo è un parametro che verrà passato e utilizzato proprio all'interno della request ok quindi noi utilizzeremo abbiamo detto lo user id proprio per far sì che quando voglio cancellare un utente piuttosto di utilizzare lo username che potrebbe generare un po' di confusione utilizziamo l'id come parametro in questo caso diciamo che se utilizza delete deve andare sul controller e utilizzare il metodo delete ok questo vuol dire che cambiando praticamente solamente il metodo della nostra richiesta saremo in grado di passare da una parte all'altra questa è la parte di codice relativa allo user dopodiché andiamo nel file principale allora qua in app.js ci sta già diciamo un bel po' di codice che è stato scritto al posto nostro che ci andiamo a guardare la prima parte ovviamente riguarda l'import di extras che è appunto la tecnologia che stiamo utilizzando per creare queste pi poi c'è un'altra libreria che riguarda path che sarebbe la libreria che si occupa di la gestione dei path ma diciamo a noi non torna tanto utile quindi la possiamo anche commentare c'è cookie parser che è la parte che si occuperebbe di gestire i cookie di sessione che in questo caso non abbiamo quindi possiamo tranquillamente commentare spesso discorso per i logger non ci preoccupiamo troppo dei log anche se questo sicuramente l'ambiente diciamo di produzione è molto più utile allora dice Alessio Bosco se non dovessi seguire se non dovessi riuscire a seguire la diretta fino alla fine sarà possibile rivederne la registrazione questo risponde Giuseppe la risposta è positiva sì la diretta è registrata quindi potrete recuperarla al termine al termine dell'incontro quindi diciamo dalle 19.30 in poi trovate sulla pagina del webinar troverete appunto non più partecipa al webinar ma guarda la registrazione perfetto grazie Giuseppe ok a questo punto continuiamo a vedere il nostro codice allora lui in questo caso che cosa fa? si importa quindi i due router che abbiamo definito in precedenza Index abbiamo detto che in realtà non lo utilizzeremo però lo lasciamo perché non dà nessun fastidio Users è quello che invece abbiamo appena lavorato dopodiché qui c'è una parte che si occupa di creare quella che è effettivamente l'app Express la parte del logger abbiamo detto l'abbiamo commentata anche la parte del cookie e della gestione del path ok e dopodiché lui fa un export quindi diciamo ci sta bene l'unica cosa che manca in questa applicazione è la parte di connessione alla database quindi qualcosa che verifica se effettivamente ci siamo collegati alla database e se tutto è andato bene per farlo andiamo a importarci qui all'inizio al solito Mongoose che ho scritto male Mongoose ok facciamo di nuovo require di Mongoose eccoci qua e ci andiamo a importare anche un'altra cosa che è questa require forse perché ci andiamo a importare la libreria course che al solito devo installare course è praticamente una libreria che ci permette di gestire quelle che sono le course policy e diciamo su questo tema tra l'altro vi faccio presente vediamo se ce l'ho qua allora vi faccio vedere in una nuova finestra qui ok le course policy sono un argomento abbastanza delicato diciamo che la maggior parte degli sviluppatori prima o poi ci sbatte il grugno sopra c'è un articolo proprio nel blog che ne parla perché soprattutto con tecnologie come Ionic Node diciamo tutte le applicazioni in realtà che lavorano proprio sul web spesso hanno di questi problemi detto in parole molto molto semplici le course policy sono praticamente un meccanismo che viene utilizzato quando si utilizza il protocollo HTTP che permette a un server di un'applicazione di specificare qual è l'origine dalla quale avvengono le chiamate in modo che non ci siano problemi di sicurezza quindi in questo caso cosa succede? noi stiamo lavorando sul nostro ambiente locale quindi localhost è diciamo il puntamento che utilizzeremo ovviamente la nostra applicazione di back-end sarà su una porta l'abbiamo detto prima la nostra applicazione di front-end sarà su un'altra porta questo comporta il fatto che le origini siano diverse questa cosa al nostro browser potrebbe dar fastidio andando a gestire lato server quindi lato back-end il meccanismo in cui diciamo tranquillo se ti arriva una richiesta da questa porta è tutto a posto eviteremo questa problematica quindi noi in pratica che cosa facciamo? importiamo questa libreria e questa libreria ci serve per poter dire app use app use app use e gli diciamo di utilizzare quotes all'interno di queste parentesi normalmente vengono specificati quali sono le origini che sono autorizzate ad utilizzare questa API in questo caso noi la lasciamo vuota il che significa non ti preoccupare utilizzare qualunque cosa non c'è problema se dovessimo diciamo in futuro mettere la nostra app in produzione per esempio perché se lì è un po' più complicato potremmo andare a specificare qui dentro se ti arriva una richiesta dalla porta non lo so 3075 va bene se ti arriva da un'altra porta è un problema ok questa era la prima parte poi se siamo importati i mongoose lo andiamo anche a utilizzare devo ristarrudire ok per farlo andiamo a verificare che la connessione al database sia marraggio sia funzionante come facciamo non preoccuparti serena tranquilla piuttosto prenditi prenditi qualche secondo nel frattempo leggo se c'è qualche domanda qui in chat magari ecco scriveteci giusto per curiosità da che percorso universitario provenite anche per conoscerci un po' di più immagino un po' di persone da ingegneria ma sono curioso se c'è qualcuno che che ha qualche altro percorso che non sia legato prettamente all'informatica nel frattempo serena dimmi tu quando sei pronta hai il muto? ok dicevo ogni tanto prendo una pausa per respirare ma ci sono ok perfetto allora intanto vedo che ci stanno scrivendo ingegneria informatica e telecomunicazione ingegneria informatica perfetto e quindi tutti i futuri futuri o presenti ingegneri e chiede Dario come ti metto online una una web application in 12.000 modi ma ti posso dire che questo sarà sicuramente uno dei temi che magari affronteremo proprio con Tutored in una delle prossime sessioni e comunque sul blog ho messo un articolo che si chiama proprio come mettere una web app angular in produzione quindi se lo vai a vedere troverai già delle informazioni lì e seguiranno altri tutorial live del genere assolutamente sì anche perché a me diverte un sacco fare queste cose quindi spero veramente che ci siano possibilità anche di vedere altre tecnologie insomma oltre oltre angular e non the js riprendiamo un attimo con il tutorial che non vi voglio portare a cena con i dubbi allora abbiamo detto abbiamo importato la libreria di Mongoose ok app corso andiamo messo più su e sì sì in realtà sì dovremmo metterlo più su ma ti dico in questo caso non abbiamo per rispondere al massimo non abbiamo diciamo particolare utilizzo delle app sì normalmente è buona pratica fare di questo metterlo diciamo all'inizio proprio appena creiamo creiamo l'app in realtà qui le uniche cose che stiamo facendo è specificare il formato delle response con cui andremo a lavorare questo in realtà neanche ci serve perché non non abbiamo codifiche particolari in questo caso possiamo bypassarlo però diciamo che è buona pratica quella che hai indicato tu in chat assolutamente e dicevamo ci colleghiamo al database come lo facciamo utilizziamo la funzione di Mongoose che si chiama connect dove andiamo a fornire la stringa di connessione in questo caso indichiamo quello che è il driver quindi mongodb slash utilizziamo localhost perché abbiamo detto il nostro database è il locale sulla porta 27017 che è la porta che avevamo specificato all'interno delle slide andiamo a specificare il database in questo caso il database lo chiamiamo per esempio userdb ok lo potete chiamare come vi pare vi ricordo che se non esistesse verrà creato use new your parser ok questo ci dovrebbe evitare problemi di parsing ok vediamo perché mi dà un problema perché diventano messe tutte virgolatine ok mongodb slash slash le options sono queste ok fatto questo la nostra applicazione dovrebbe essere pronta ma vediamo e tra l'altro faccio presente che questa non sarà sulla porta e infatti non sarà sulla porta 81 8081 come avevo detto a meno che la vada a modificare la vada a modificare process m.port 8081 in questo caso lui dovrebbe andarla a utilizzare app listen gli specificiamo di utilizzare la porta che gli abbiamo metto ok e dopo di che quando lui parte gli facciamo anche stampare un bel messaggio per dire I'm running on port così sappiamo che la nostra applicazione è su e sta è eseguita sulla porta specificata ok con il pulsantino andiamo a eseguire il nostro codice vediamo tutto lui ci dice che sta venendo eseguito sulla porta 8081 anche se in realtà probabilmente la porta 3000 ma adesso lo scopriamo subito andiamo qui e abbiamo detto proviamo a fare una serie di test io per comunità su postman mi sono salvata una serie di chiamate salvatore chiede il codice sarà disponibile assolutamente sì non appena abbiamo finito diciamo questo tutorial e questo questo webinar ve lo ve lo salvo e ve lo metto all'interno della cartella quindi il codice sarà assolutamente libero e disponibile non sarà commentato chiaramente perché lo sto raccontando adesso però non è un problema ok andiamo a provare la nostra API e ci dà effettivamente un errore ok scusate perfetto allora la porta che sta utilizzando effettivamente è la 3000 quindi bisogna specificarli utilizzarli una diversa comunque in questo caso a noi va bene una porta qualsiasi vediamo che effettivamente quando andiamo a chiamare users lui ci risponde con users API is working ok quindi ritorniamo qui sul controller anzi no scusate ritorniamo sulla rotta questa qua e questa parte qua la commentiamo quindi sappiamo che sta funzionando mi viene un attimo un dubbio e poi quando le cose le fa dal mio infatti era quello che temevo ok allora mi spiego subito che cosa è successo praticamente lui qui dentro che cosa fa dice che rispetto a quella che è l'app principale cioè localhost 3000 se io schivo users lui si aspetta di andare in users router poi qui dentro abbiamo detto che il nostro router si aspetta che quando vado a invocare il path users quindi un'altra volta andiamo ad aggiungere un altro pezzetto al nostro endpoint se usa una chiamata get va sul metodo index del controller se usa una chiamata post va sul metodo new del controller quindi lui si aspetta in pratica che questo sia dove sta che questo sia il path principale e che questo sia invece il sottopat con cui lui gestisce il router in questo caso noi lo cambiamo questo lo chiamiamo API ok perché tutte le API passeranno di qui e questo lo lasciamo così com'è riavviamo perché altrimenti la modifica non se la prende e quindi qui ci mettiamo API e vediamo che effettivamente ci risponde che gli utenti sono stati recuperati in questo caso siccome il nostro database è vuoto giustamente non c'è nessun utente ma andiamo anche a testare l'inserimento quindi utilizzando la post ok facciamo una bella post sulla porta 3000 API users e andiamo a mettere name peter per esempio description lore morat qual è la domanda di Giacomo non capisco la funzionalità di postman se scrivi lo stesso indirizzo del browser non dovrebbe darti gli stessi errori assolutamente sì la differenza con il browser è questa che intanto possiamo cambiare facilmente il tipo di request che andiamo a fare invece di fare una get che è quella che di definizione viene fatta da un browser possiamo andare a fare per esempio una post ok la seconda grande differenza è che non tutti i browser fanno vedere bene le risposte per esempio vi faccio vedere su Chrome che cosa succede ce la fa vedere così fino a qua ci sta anche bene se vogliamo fare una post non possiamo farla agilmente postman in questo senso ci aiuta a testare le nostre funzionalità è uno strumento molto comodo quando si sviluppa la parte di back end di API diciamo REST è molto molto utile io ve lo consiglio poi anche qua ci stanno 9000 opzioni quindi vedete quella con cui vi trovate di più dicevo per la parte diciamo di inserimento di una request andiamo a definire quello che è un oggetto quindi un utente ci mettiamo il nome in questo caso Peter una descrizione che è una descrizione qualsiasi andiamo a effettuare la post e vediamo cosa succede ci risponde che l'utente è stato aggiunto quindi effettivamente status ok l'utente è stato aggiunto e ci restituisce le informazioni dell'utente come vedete questo è il classico documento mongo in cui l'id assume questo aspetto quindi ha un underscore id con un codice casuale il nome e la descrizione che abbiamo inserito e questa è la versione questo perché nel momento in cui andiamo a aggiornare il nostro oggetto il nostro documento all'interno del database verrà generata una nuova versione a questo punto se andiamo a rieffettuare un'altra volta la get quindi se andiamo a recuperare nuovamente gli utenti ci aspettiamo che l'arrei sia pieno e in effetti ci viene restituito un oggetto ok ne andiamo a inserire un altro quindi andiamo per esempio ad inserire mark andiamo a effettuare nuovamente la get vediamo che gli oggetti sono due a questo punto verifichiamo anche che stia funzionando la cancellazione quindi utilizzando il metodo delete prendiamo l'idl mark e vediamo se funziona io lo andiamo a passare stavolta non l'adoggetto ma abbiamo detto glielo passiamo all'interno del vediamo direttamente gli occhiali li faccio prima glielo passiamo direttamente come parametro nella chiamata quindi in questo caso per esempio ci incolliamo l'idl mark e facciamo send il metodo vi faccio notare che è delete la porta è sbagliata scusate la porta 3000 si che è not delete perché probabilmente l'ha già cancellato vediamo un attimo no questo dovrebbe funzionare fate vedere un secondo il codice controller user moon user id se lo dovrebbe prendere user id manca si lascia la definizione del path sul codice root non c'è lo slash user avete ragione mamma mia che occhio complimenti avete ragione grazie mille vedo che siete super super attenti sono contenta ok allora l'ho riavviato quindi in questo caso tac perfetto è stato cancellato bene grazie per l'aiuto dal pubblico perché effettivamente queste cose possono sfuggire soprattutto una sessione live dove uno ha anche un po' più di tensione nel dover affrontare le cose per la prima volta rifacciamo anche la get perfetto rifacendo la get vediamo che effettivamente è rimasto solo Peter quindi Mark è stato cancellato correttamente a questo punto possiamo dire che la parte di backhand l'abbiamo costruita è fatta e testata per i metodi che abbiamo fatto e la possiamo per un attimo mettere da parte a questo punto passiamo alla parte di frontend quindi questo ce lo mettiamo così com'è ce lo lasciamo e passiamo alla parte di frontend allora creiamo un nuovo progetto e lo chiamiamo min frontend e partiamo da un progetto angular clip ok in questo caso vi vado ad aggiungere una serie di parametri opzionali che mi permettono di gestire lo stile aspetta mi permetto di gestire lo stile vediamo se me lo fa mettere il ruling se ci riesco nel frattempo guarda vi posso assicurare fino a mezz'ora prima di cominciare stavo benissimo mi è scoppiato tutto insieme infatti mi sono veramente adesso non dirmi che è colpa mia no no figurati assolutamente però veramente è stata una coincidenza tremenda allora niente qui non mi sta facendo mettere i parametri non ho capito per quale assurdo motivo non fa niente lo creo direttamente a mano allora facciamo così allora cd mg new abbiamo detto lo chiamiamo min frontend ma io lo sto passando anche adesso i parametri style scss ok allora in questo caso io gli sto dicendo vai a crearmi un progetto che si chiamerà min frontend e gli ho passato due parametri style uguale scss quindi come parte di style utilizzerà scss che è una tecnologia diciamo un po' più avanzata di css e mi configurerà quello che è il router quindi un file che utilizzeremo per fare tutte le varie rotte nel frattempo che lui finisce di creare tutti i vari pacchetti noi andiamo ad aprire la cartella ok nel mio caso è qui sotto scusate c'è un sacco di roba frontend ok la vado ad aprire in una nuova cartella scusate in un nuovo schermo come vedete intanto qualche file già ce l'ha iniziato a mettere perfetto anche qua diamo un'occhiata a quelli che sono i file principali allora mentre lui finisce la sua configurazione io se non mi dispiace me la metto qui sopra così tengo d'occhio quando ha finito di installarsi tutti i suoi pacchettini ok allora diamo un'occhiata a quella che è la struttura di questo progetto intanto abbiamo che c'è una cartella app con tutta la parte relativa ad app che è proprio il componente principale che utilizza Angular per esporre la nostra applicazione infatti in app html c'è tutta la pagina principale di Angular adesso la andremo a eseguire per curiosità come vedete lo stile è scss quindi vi ripeto un po' più avanzato su questo non approfondiamo però ci permette di fare una serie di operazioni in più rispetto al css normale c'è il file di routing quindi il file dove andremo a specificare le varie rotte che il browser dovrà gestire per fare il rendering nella nostra app web il module all'interno del quale andremo a importare una serie di moduli supplementari in particolare andremo a importare quelli che sono i moduli di Angular Material lo strumento di design che ci permetterà di rendere la nostra app un po' più carina e il component è quello principale quindi quello che ingloberà tutta la nostra applicazione la vedo che ha finito perfetto quindi a questo punto siamo pronti per passare qui sulla parte di ok ci siamo all'interno del progetto Angular vi faccio anche presente che c'è una cartella relativa agli assets quindi una cartella relativa a tutte quelle che sono abbiamo detto prima componenti statiche che possono essere le immagini font file per esempio javascript che fanno cose particolari e via dicendo c'è una cartella environment all'interno della quale andiamo a definire quelle che sono le variabili d'ambiente nella nostra applicazione per esempio se dobbiamo stabilire la connessione a una serie di API esterne questo è un buon punto dove farlo e esistono due file uno che è utilizzato in ambiente di sviluppo che è questo e uno che è utilizzato in ambiente di produzione questo è molto importante perché nel momento in cui vogliamo prendere la nostra applicazione siamo pronti per andare in produzione possiamo aggiungere nelle opzioni di build l'opzione vero vero prod che prende tutti i puntamenti che sono riportati qui dentro e li utilizza ok quindi senza dover cambiare la nostra applicazione ma cambiando solo i puntamenti perché ovviamente ci aspettiamo che in un ambiente di produzione la nostra applicazione diciamo abbia dei puntamenti diversi da localhost farà lui tutta la compilazione ok fatto questo che cosa facciamo quindi il nostro progetto Angular è stato creato abbiamo dato un'occhiata a quello che è tutto il progetto creiamo una prima pagina di home page ma ancora prima lo mettiamo in esecuzione quindi facciamo ng serve lui ci dirà vuoi collaborare con google sì sì tanto figuriamoci lui ci andrà a generare il codice che verrà mostrato tramite il browser io ne approfitto mentre lui vacila per soffiarmi un'altra volta il naso perfetto dice compile successfully a questo punto io mi aspetto che l'abbia esposto eccolo qua sulla porta 4002 questa è la porta di default che viene utilizzata quindi se vado nel mio browser scrivo localhost 4002 ok come vedete c'è la pagina principale di angular che è quella che vi avevo fatto vedere prima all'interno del file app component html in questo caso il nostro file app component html farà una bruttissima fine perché siccome vogliamo rendere la nostra app veramente angular buttiamo praticamente tutto e iniziamo a scrivere il nostro codice allora in questo caso cosa facciamo intanto io utilizzo normalmente un div all'interno del quale vado a importare tutto quello che è il codice angular perché abbiamo detto essendo una single page application noi facciamo sì che app sia il componente all'interno del quale vengono poi caricati di volta in volta i vari componenti altrimenti vi troverete in una situazione in cui quando utilizzate angular non utilizzando una struttura del genere i vostri componenti verranno caricati sotto la pagina principale noi facciamo di questo quindi diciamo che tutto ciò che arriverà come richiesta dal browser dovrà passare all'interno di questo div router outlet è proprio il componente che si occupa di andare a iniettare il codice html dei vari componenti che vengono caricati di volta in volta questa è la prima cosa che andremo a fare la seconda cosa che andremo a fare è quella di installare angular material e per farlo ci andiamo a prendere direttamente il comando online quindi facciamo material angular vi faccio vedere che in questo momento la nostra pagina è bianca proprio perché sta visualizzando il componente bianco quindi nullo allora ci andiamo a installare angular material e lo andiamo a fare anche questo da riga di comando quindi terminal e la c'è che si dice perfetto paste e andiamo a installare angular material vi faccio vedere mentre lui lo installa se ci chiedeva si vi faccio vedere che angular material fornisce una serie di componenti che al posto di scrivere codice html puro e quindi aver bisogno di fare anche tutta la parte che riguarda lo stile ha una serie di componenti già pronti con lo stile che si adatta proprio a quella che è il design material per esempio se io volessi creare una tabella così come faremo oggi vedete che ci sono delle tabelle già predisposte che possiamo utilizzare molto utile la sezione relativa agli esempi all'interno della quale noi possiamo andare a vedere quello che è l'aspetto di una tabella questa per esempio è una tabella semplice ma ci sono anche delle tabelle dove posso aggiungere o rimuovere dei dati posso andare a riordinare i componenti randomicamente ci sono le tabelle con i filtri eccolo qua quindi per esempio questo ha già un filtro di ricerca già impostato senza che io debba fare niente vedete può cercare su qualunque campo se cerco 6 punto no e c'è il codice che viene messo a disposizione che noi possiamo copiare e riutilizzare vediamo se ha finito ok mi chiede quale tema io voglio utilizzare voglio utilizzare indico pink deep purple eccetera eccetera per vedere come sono i colori potete utilizzare qui sopra ok questo tool che vi fa vedere come cambia in questo caso boh scegliamo quello classico quindi utilizziamo deep purple amber sì anche la parte di font sarà quella anche la parte animazione utilizziamo tutto tutta la suite di angular material ovviamente su questo potete fare come volete assolutamente diciamo che per chi non ha competenze o per chi non ha creatività non ha voglia di mettersi a perdere tempo questo è veramente il modo più semplice che avete per rendere la vostra applicazione carina perfetto quindi lui ha aggiornato il file styles ok ha aggiornato anche la pagina principale rispetto a react quindi angular offre i template grafici in realtà material è proprio un qualcosa è un progetto che deriva da google infatti se cercate material su internet material design è proprio diciamo è uno studio di design fatto da google su come rendere più gradevoli dal punto di vista della user experience e del design tutto quello che è la componentistica del design web per angular è stato fatto diciamo un studio a parte quindi sempre fornito da google ovviamente ma viene fornito qualcosa che è specifico per material ok non so in realtà se esiste anche per la parte di react ma penso che si figuriamoci e infatti esiste anche per react quindi potete utilizzare tranquillamente anche questo design per react ok ok allora dicevo quindi la nostra installazione ha modificato una serie di file andiamo a questo punto andiamo a questo punto a creare una pagina home page per esempio allora anche in questo anche in questo frangente io di solito organizzo quelle che sono le componenti logiche dalle componenti di vista della della nostra applicazione quindi mi vado a creare delle cartelle anche questo è assolutamente opzionale lo faccio io più per una questione diciamo di ordine mentale all'interno di app mi vado a creare quelle che sono le componenti che sono diciamo le componenti visive mi vado a creare invece le componenti relative ai servizi i componenti quindi saranno tutte quelle pagine che vengono effettivamente mostrate nel browser i servizi saranno quegli oggetti provider che faranno sì che la nostra applicazione possa andare a comunicare con il back end che abbiamo appena creato e che creerà effettivamente dei servizi da utilizzare siccome noi utilizziamo appieno quella che è la cli di angola quindi la command line ci andiamo a posizionare all'interno della cartella components perfetto e gli andiamo a chiedere di generare un componente che chiamiamo home page perfetto ok a questo punto lui che ha fatto quindi ha creato un componente home page ecco qua con tutti quelli che sono i vari pezzetti che ci servono per definire il nostro componente angular prima cosa la pagina html poi abbiamo il codice typescript dove andremo a mettere la logica e la parte di scusate la parte relativa anche allo stile ok per vedere che sta funzionando vi faccio notare anche che ha aggiornato app module perché è andato ad aggiungere anche qui la definizione di home page component vi faccio presente che app module è tipo la parte centrale di tutta l'applicazione in angular all'interno di questa dobbiamo definire tutte quelle che sono le componenti grafiche quindi le pagine che andiamo a visualizzare all'interno di declarations quindi tutto quello che lui deve visualizzare all'interno del browser va messo all'interno di questa array all'interno di providers andremo a mettere tutti quelli che sono i servizi no scusate ho detto una scemenza non ho detto niente all'interno di import andremo a mettere tutte quelle che sono le componenti del material design quindi ogni volta che noi andremo a utilizzare per esempio una tabella material eccetera eccetera andremo a mettere all'interno degli import ok questo è io di solito faccio di questo vi faccio vedere come tatatà ok mi importo un set che sono già pronti questa diciamo è la mia esperienza sono diciamo quelli che uso più comunemente altrimenti quello che si fa man mano che li utilizziamo li andiamo ad importare ed è quello che facciamo adesso allora la pagina home page l'abbiamo fatta per vedere la nostra applicazione sta funzionando all'interno di root andiamo a definire una rotta verso la nostra home page quindi per esempio vi diciamo che quando io da browser vado a chiamare il path quello vuoto quindi localhost 4002 deve andare sul componente home page ok allo stesso modo se va su path per esempio users pensato slash lo faremo andare su users component che non ho ancora definito quindi lo andiamo a definire adesso users ok l'ha già definito perfetto aspettiamo che lo indifizzi anche ok users component perfetto a questo punto siccome la nostra applicazione è esatto è live possiamo fare di questo allora come vedete la prima pagina che viene visualizzata effettivamente è l'home page se andiamo qui ci aspettiamo che diventi users works perfetto perché questo è il codice html che viene generato di default e viene messo all'interno delle pagine html a questo punto manca lo step più importante cioè creiamo il nostro servizio per far sì che i dati che abbiamo creato tramite la nostra API li possiamo visualizzare da qui lo facciamo andando nella cartella services sappiate che potete fare anche ng generate e specificare qual è la cartella all'interno della quale andare a creare i servizi io avendo un passato da sistemista ho l'abitudine a spostarmi nel file system di continua ma non è un problema potete chiedere la generazione dei vari oggetti anche in forma abbreviata quindi invece di scrivere generate per interno potete scrivere g per la parte di servizio potete scrivere se non sbaglio s bassa e andiamo a creare un servizio che chiamiamo users ok ce l'ha creato quindi andiamo nella cartella services perfetto allora all'interno della cartella services che cosa facciamo andiamo a creare una serie di metodi che ci permettono di andare a recuperare i dati da dal nostro backhand prima di tutto però andiamo a definire quella che è un'interfaccia intanto la scrivo poi ve la racconto abbiamo detto name string expression ok andiamo a definire quella che è un'interfaccia perché in questo modo abbiamo un modello di riferimento con il quale la tabella di angular all'interno della quale andremo a visualizzare i dati degli utenti potrà interfacciarsi una sorta di model così come abbiamo fatto per la parte di backhand niente di più niente di meno lo possiamo fare in un file a parte lo possiamo fare qui all'interno diciamo è la stessa identica cosa vedo una domanda in chat dice react versus angular quale scegliere Matteo dice in linea molto generale nel mondo del lavoro mi sembra vendere le grandi aziende usino angular piccole e medie start up react diciamo come definizione ci può stare assolutamente ho vissuto entrambe le realtà e posso dire che effettivamente è così anche se dico che in realtà conoscere tutte e due i framework non fa male perché sono abbastanza diversi sono molto versati entrambi e sono diciamo due tipologie di librerie che fanno fanno lavorare tantissimo veramente ok a questo punto all'interno del service cosa facciamo andiamo a importare una libreria che ci permetterà di eseguire delle richieste http io in particolare uso questa che è la più semplice che si chiama http client ok http client la andiamo a importare nel costruttore e dopo di che andiamo a definire una serie di metodi che ci permetteranno di utilizzare il backend per esempio io dico che il mio servizio se metto a disposizione un metodo che si chiama get users voglio che mi ritorni una get dove definito scusate si apro 12 prima finestra a seconda di come metto il mouse una get che utilizza user data che sarebbe l'interfaccia che ho definito poco fa scusate chi chi ecco qua e concordo tra l'altro con Matteo se capisci Angola React è molto più semplice se parti da React invece è un bagno di sangue dicevo facendo una get dove mi aspetto che la tipologia di dato sia simile a quella specificata nell'interfaccia la vado a fare dove? environment environment perché? perché io qui dentro vado a definire quello che è il puntamento al mio backend in questo modo sarà anche più semplice se dovessi cambiare per esempio porta o qualunque altro tipo di informazione andarmela a recuperare io di solito ho anche adotto questo approccio definisco qui dentro per esempio un backend URL ok dove gli vado a dire che il mio backend è questo localhost sulla porta abbiamo detto 3000 API ok quindi da qui io gli dico da dentro environment tu ti vai a prendere il backend URL scusate il backend URL e dopo di che ci aggiungi il contesto che in questo caso faccio così almeno si vede per intero è users ok perché qua ci stiamo andando a recuperare tutti gli utenti se voglio per esempio inserire un nuovo utente quindi faccio un new user sicuramente vi aspetto di avere un body quindi una serie di informazioni che descrivono il mio utente abbiamo detto che lo faccio tramite una post in questo caso non ho bisogno di specificare il dato e nella post vado a specificare non solo il backend URL che abbiamo usato prima non solo users ma vado anche a utilizzare il body stessa cosa faccio anche per la parte di delete se vi da questo errore non vi preoccupate perché sicuramente è un problema semplicemente di sintassi che non rispecchia perfettamente la parte di di typescript perché ho messo la modalità strict delete user ok in questo caso io vado ad indicare come parametro low user id vado ad utilizzare il metodo delete come abbiamo visto anche tramite postman e gli vado a passare low user id ok il stesso discorso qua va qui a fare i tuoi ok quindi questo è il service molto bene il service l'abbiamo fatto a questo punto passiamo alla parte invece di di utenti allora intanto nella mia home page scusate nella mia home page vado un attimo a mi soffio il naso e arrivo sta peggiorando sempre di più datemi un secondo non preoccuparti serena tranquilla allora nel frattempo io approfitto per per dirvi che vi ho inserito qui in chat immagino l'avrete anche notato un link con le opportunità di carriera che sono presenti sul nostro sito e che sono relative all'ambito IT sappiate che ce ne sono diverse anche in ambito programmazione quindi come dire spulciate un po' sul nostro sito e vedrete che ne troverete ne troverete un per dirvi visto che attendiamo serena se avete qualsiasi tipo di dubbio domanda ma ecco che serena è tornata e quindi dubbi domande dopo hai il muto serena ok pensavo di aver messo il volume invece no e quando le potete fare lo stesso assolutamente dovete solo avere pazienza allora dice Filippo credo che devi aggiungere la riga 29 lo slash prima di user ID immagino che si riferisse al service aspetta lo riapro hai ragione assolutamente hai ragione grazie Filippo questo aiuto dal pubblico mi sta piacendo un sacco ok allora dicevamo nella pagina diciamo nella home page vado a mettere qualche informazione in più per renderla un po' più carina di questo home page works che è veramente tremendo allora ci vado a mettere per esempio una card tanto per farvi vedere come funziona il design material per esempio è stata una cosa effettivamente l'ho vado proprio a prendere dalla documentazione così andiamo a utilizzare direttamente gli esempi che forniscono loro e vediamo anche la doc allora material angular ok allora per esempio nella mia pagina principale ci voglio andare a mettere una card con qualche informazione ci voglio mettere per esempio prendo questa come esempio anche se questa forse con l'immagine è un po' eccessiva come vedete tutti questi componenti vengono sottolineati in rosso perché giustamente io non l'ho importato ma lo può fare lui per me quindi in questo momento lui mi dovrebbe aver modificato l'home page mettendo la card dello Shiba Inu vediamo un po' perfetto è renderizzata malissimo perché questo ovviamente è il componente principale ma diciamo di questo adesso non ci preoccupiamo troppo allora ok ritorniamo la nostra home page tra l'altro aggiungo un po' di padding nel content in modo che non sia proprio tutto esatto un po' più centrato togliamo il nostro cibaino che è carino ma insomma non ci torna troppo utile per la parte diciamo relativa all'utente ok e ci andiamo a mettere un testo casuale quindi ho messo un lorem ipsum ho tolto l'immagine ho messo un titolo diverso che è welcome to our test application detto ciò quindi questo diciamo non è troppo importante la parte importante è quella relativa agli utenti allora nel caso degli utenti che cosa facciamo andiamo a utilizzare una tabella presa appunto da Angular Material per far funzionare la nostra tabella Angular Material andiamo a vedere anche qua la documentazione così vi faccio vedere che utilizzo per esempio scegliamo di utilizzare una tabella con il filtro no? perché ci può tornare utile nel momento in cui abbiamo diversi utenti voler filtra la tabella come lo facciamo? lo facciamo in questo modo allora andiamo a visualizzare il codice ok allora lui ci fa vedere che c'è del codice HTML del codice TS del codice CSS quello CSS è quello più facile quindi lo copiamo e lo incolliamo ok questo fa sì che la nostra tabella adesso ve lo faccio anche vedere la tabella avrà una una larghezza del 100% e il campo che ci permette di fare la ricerca avrà un font di dimensione 14 pixel e una larghezza pari alla larghezza della tabella niente di più la parte che ci interessa di più è questa la parte relativa al TS perché in questo caso lui ha bisogno praticamente per poter popolare la tabella di creare una sorgente dei dati nel nostro caso la sorgente dei dati saranno gli utenti che lui riceve ok chiamando il servizio che abbiamo creato prima come lo facciamo? lo facciamo in questo modo andiamo nel TS ok allora come prima cosa ci importiamo il servizio quindi public user service user service perfetto e questa è fatta dopodiché io voglio che al caricare di questa pagina mi vada a recuperare tutti gli utenti quindi chiamo il servizio chiamo il metodo get users e faccio una bellissima subscribe non ho capito che cosa è successo subscribe ok dove gli dico che gli utenti che saranno di tipo user data come abbiamo visto aspettate vi devo mettere un'altra parentesi se no si incazza e devo importare user data che è quello che abbiamo visto prima nel service ok perfetto nel momento in cui lui quindi chiama il servizio di back end aspetta una risposta abbiamo detto che il metodo che abbiamo a disposizione è una get quindi ti va a recuperare i dati dal database li fa matchare con quello che è lo schema che abbiamo definito nell'interfaccia del servizio li mette dentro users andiamo a fare un console log io lo uso sempre per controllare che effettivamente i dati siano a posto ricordiamo che i dati sono all'interno di una property che si chiama data infatti anche riprendendo postman vediamo che le informazioni sono qui dentro ok qui ci mettiamo al solito ignora dopodiché abbiamo bisogno di fare questo la tabella material usa questo oggetto qua vi faccio vedere allora questo va a specificare quali sono le colonne che lui deve andare a mostrare nel nostro caso sulle colonne sono name e description ok quindi qua dobbiamo già stabilire quali sono le colonne delle informazioni che vogliamo visualizzare queste due va bene poi ci serve stabilire qual è la data source allora a parte importare questa informazione qua quindi dobbiamo andare a specificare qual è l'informazione e lo facciamo specificandogli il tipo ok perché nel nostro caso i dati non è che ce le avremo subito ma sono informazioni che avremo nel momento in cui le ha recuperate quindi lo mettiamo in questa forma si ok e non gli sta bene non so per qual è il mio ma bene adesso lo vedremo user data in questo caso andiamo a definire anche quello che è un array di utenti che abbiamo a disposizione per rendere i nostri dati visibili a livello globale e facciamo this users uguale a users.data quindi le informazioni che abbiamo all'interno della response le andiamo a mettere all'interno della variabile globale dopo di cui facciamo this data source uguale a new math table data source e in questo caso gli andiamo a mettere effettivamente gli utenti ok andiamo anche a ordinarli questo è assolutamente opzionale dis.sort fatemi vedere un secondo qui qual è il suo problema parentesi riga 13 forse la riga 13 manca la parentesi del costruttore no in realtà no perché questo non è un costruttore è solo ah no non ci devo mettere la parola new scusate non lo volevo rendere un costruttore lo volevo rendere solo una variabile tipizzata basta quindi grazie del suggerimento perché mi avete fatto capire dove era il problema e ok user.data string questo direi che ci siamo ok direi che ci siamo vedo che qui ci sono ancora un po' di problemi vediamo infatti se continuo a dare errore esatto ok vediamo un attimo così allora data su se non gli piace ma secondo me c'è qualche import che ci stiamo perdendo infatti allora ci sono due import che sicuramente servono che sono mat sort e mat paginator per poterlo ordinare poi user data l'abbiamo importato user service l'abbiamo importato secondo me c'è qualche informazione ancora che ci manca comunque mettiamo un secondo in piedi là dove sta eccolo qua dobbiamo mettere in piedi il codice html allora codice html che ci copiamo e ci adattiamo sulla base di quello che ci serve allora in questo caso vi faccio vedere questo per il momento ah manca anche il metodo apply filter giusto perché se vi ricordate la tabella che io ho preso di esempio aveva anche un filtro ok che ci permetteva di andare a cercare all'interno delle informazioni che sono in piedi nella tabella quindi andiamo qui dentro e andiamo a inserire anche il metodo apply filter in questo caso andiamo a vedere che il metodo apply filter è molto generico perché praticamente si va a prendere per ogni evento scatenato della tabella che nel nostro caso è la digitazione di un input all'interno della tabella lui si va a prendere il valore di quello che abbiamo scritto quindi per esempio se iniziamo scrivendo la D scriviamo la D e dopo di che lo va a rendere tutto in minuscolo e va a filtrare i dati sulla base del filtro che abbiamo inserito quindi questo metodo non lo dobbiamo toccare ci sta benissimo così mancano tutti questi moduli da importare ok quindi li facciamo importare e come vedete mancavano degli altri import quindi probabilmente il problema è proprio questo ok questa parte un attimo la commentiamo vediamo vediamo se adesso si prende questo componente ok vediamo se ci siamo importati tutti i moduli che ci servono card form e table secondo me manca qualcos'altro fatemi controllare no perché qua abbiamo usato solo questi in realtà li usiamo per la paginazione dopo ok allora vediamoci dice che ci sono comunque ancora dei problemi allora data source has no viene utilizzato data source senza averlo dichiarato sì perché in realtà dovrebbe utilizzare il math sort quindi probabilmente questo è uno dei moduli che manca vediamo se dovrebbe utilizzare il math sort quindi proprio un oggetto che fa parte di Angular Material comunque spero non sapere né leggere né scrivere io mi vado ad importare anche questi moduli sicuramente da qualche modo che adesso non vedo che mi sto perdendo allora lo slider sicuramente non ci serve lo stepper non ci serve l'input sicuramente ci serve select ci serve il divider non ci serve questo anche ci serviva il math sort module eccolo qua infatti mancava mi immaginavo il paginator anche ci serve ok sicuramente me ne ero persi i diversi perché web store mette ne suggerisce alcuni altri purtroppo se li perde quindi vanno importati ok chips non ci serve button angle non ci serve grid list non ci serve ripple no no ok le icone ci servono sì ok allora dovrebbe rigenerarsi però facciamo così ok l'erroe su matt table data source è sparito manca il sort per il momento lo commentiamo nelle ultime versioni quando dai errore usi questo qua immagino vero dice Matteo in chat penso sia questo ok allora riavriamo qui ok allora questa è la pagina iniziale io adesso vado su users mi fa vedere effettivamente Peter ok quindi si è caricato correttamente i dati fermo restando che manca tutta la parte di css su cui non perdiamo tempo però vedete che effettivamente c'è a questo punto l'unico step che facciamo in più poi vi lascio tranquillamente è quello di creare un un altro utente ok quindi andiamo utilizzare postman per creare un altro utente ricreiamo mark sì sì allora Matteo ha centrato una cosa in chat che è molto importante sicuramente il problema è stato questo io normalmente non uso angular 12 o successive uso angular 11 per cui non ho calibrato il codice su questa versione qua però effettivamente il punto esclamativo ci permette di dire ad angular non ti preoccupare che il dato non sarà di tipo null nel momento in cui io ti ho specificato che questo è di tipo mat table o di tipo user data stai tranquillo che dopo lo inizializzo in questo modo vado a eliminare l'errore nel momento in cui lui prima mi dava errore perché diciamo ha paura che non venga valorizzato prima che il caricamento della pagina sia avvenuto correttamente quindi questo è un po' un barbatrucco che funziona quindi grazie di avermelo ricordato però diciamo effettivamente non è un problema delle versioni molto molto recenti di angular quello che vi volevo far vedere era semplicemente questo andiamo a vedere come per esempio cancellare un utente allora intanto aggiungiamo una colonna action che ci permette di mettere un'iconcina all'interno della tabella che era quest'iconcina qua che ho già predisposto cliccando sull'iconcina corrispondente alla riga dell'utente lo posso andare a cancellare lo cancello creando questa funzione qua quindi creo un metodo delete dove ovviamente abbiamo detto gli passo l'id dell'utente come faccio? chiamo il metodo delete user che avevamo già definito prima lo faccio in questo modo vado a chiamare la subscribe quindi chiamando la subscribe io vado a vedere se effettivamente la mia cancellazione è andata a buon fine nel back end se vi ricordate non restituivo nessuna informazione se non un messaggio e lo status quindi vado a fare un console log del dato ok lo vedrò solo da console se effettivamente la cancellazione è andata a buon fine dovrò riaggiornare la pagina in questo caso chiaramente potrebbe essere carino in questo step piuttosto che utilizzare un console log che chiaramente non è consigliato utilizzare per esempio uno snack bar ok quindi una sorta di toast così si chiama per altre tecnologie che mi visualizza un messaggio e una serie guarda cancellato tutto a posto ok ok vedete che in questo caso c'è appunto questo pulsantino che mi permette di cancellare l'utente se ci clicco sopra io qui vedo che mi dice ok l'utente è stato cancellato se aggiorno la pagina effettivamente l'utente non c'è più ok questa è per la parte di cancellazione se volessi crearne uno nuovo il consiglio che vi posso dare perché vedo che stiamo allungando un po' troppi tempi è di creare all'interno di users all'interno di components mi creo un altro componente che chiamo new user poi magari il codice questo ve lo posso completo creo un altro componente new user all'interno del quale per esempio posso andare a utilizzare un dialog io consiglio questo perché secondo me è carino diciamo senza dover cambiare continuamente pagina creare un dialog che sarebbe questo componente qua quindi una finestra che si apre si prende l'input a due campi che in questo caso saranno il nome e la descrizione e cliccando su ok va a chiamare direttamente il servizio ok semmai il codice di questa parte qui ve la posso completa quindi la finisco di scrivere al volo e ve la posso completa all'interno dell'esempio non so Giuseppe se posso caricare direttamente il codice all'interno del della content library di questo guarda allora guarda Serena in realtà mandarmelo e poi io lo invio tramite mail a tutti i partecipanti perfetto ok si lo posso anche mettere su github facciamo prima lo metto su github così è esatto nel senso tu puoi girarmi un link da cui scaricarlo e io comunque invierò domani mattina una mail a tutti quelli che hanno partecipato così possono riguardare la registrazione e scaricare il codice perfetto ok allora direi che senza che ci allunghiamo troppo 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 io vi aggiungo qui il codice per aggiungere un utente quindi come renderizzarlo in Angular sistema un po' il CSS quindi aggiungo un po' di padding qui e lì per rendere il contenuto un po' centralizzato però diciamo che tutto sommato dovreste aver chiaro il funzionamento tanto per fare un riepilogo vi riprendo anche la parte di back-end che sta qui eccola qua ok la parte di back-end è questa che come vedete era ancora attiva quindi abbiamo costruito praticamente partendo da zero partendo da un semplicissimo file json tutto quello che è lo stack sopra la parte di back-end l'abbiamo fatta in express ed è venuta molto molto semplice come vedete qui c'erano già diciamo i metodi sia per restituire tutto l'elenco degli utenti crearne uno nuovo cancellarlo adesso vi aggiungo anche la parte di aggiornamento quindi qui ci metto un la parte di aggiornamento di un utente ovviamente sarà a partire dall'indirizzo scusate dall'identificativo quindi passando l'identificativo le altre operazioni e gli altri attributi sarà possibile aggiornare l'utente e vi aggiungo anche la parte di aggiunta di un utente lo facciamo tramite un pulsante che metterò qui in basso per esempio possiamo utilizzare anche qui usiamo per esempio uno di questi pulsanti ok che metto in basso a destra cliccando su quello si apre un bel dialog che mi permette di inserire i miei dati e di aggiungere un utente ok direi che ecco sì direi che ci siamo scusate ancora mi rinraffreddore spero che passi presto ottimo guarda io ti faccio i miei complimenti per per tutto quello che hai fatto guarda io e il mondo della programmazione sono due rette fare al miele sono sincero però devo dire che sono affascinato da come l'hai raccontato che è forse la parte più interessante perché di persone brave nell'ambito programmazione ce ne possono essere tantissime però ce ne sono tantissime anche più bravi di me sicuramente però bisogna superlo raccontare e tu sei stata super non lo dico non lo dico soltanto io lo dico anche i commenti che trovi qui in chat quindi grazie mille grazie mille a te grazie per l'opportunità mi ha fatto veramente tantissimo piacere mi sono divertita un sacco moltissimo ciao Vincenzo ciao Isabella grazie mille a voi per aver partecipato e allora io vi ricordo che abbiamo registrato quindi domani vi invio la registrazione e poi Serena mi gira il codice così posso inviarvelo Serena grazie mille alla prossima grazie buonasera da tutti e alla prossima ciao ciao